Signori ci abbiamo sperato, abbiamo veramente sperato in una generazione con pokemon fatti bene e purtroppo oggi siamo stati malamente smentiti perchè obiettivamente non si può dire che questi nuovi pokemon rivelati siano belli Iniziamo a commentarli in ordine, per primo ci viene rivelato questo, ragazzi non so proprio cosa dire, oltre al fatto che lo notiamo di striscio è tagliato a metà e io mi auguro che non sia il pokemon drago di turno Perchè, perchè altrimenti c'è un problema di fondo, cioè non puoi, dopo tutti i draghi belli che ci hanno portato questo coso qua, oggettivamente non si può guardare, sembra il drago shenron appena uscito da chernobyl E' bruttissimo, tra l'altro non saprei neanche dargli un tipo perchè, boh, drago e volante, si un altro, va bene, però raga, cioè Adesso passiamo a quest'altro, quest'altro è già più accettabile, è il nuovo pikachu Comunque ci sta, è sicuramente meglio di dedenne, ok, non sarà bellissimo, però è comunque un pokemon che si può guardare, insomma Sarà sicuramente di tipo elettro, magari ci aggiungeranno anche un tipo normale, non lo so Però, insomma, questo qua è già più accettabile Poi abbiamo invece quest'altro, quest'altro mi piace abbastanza, è palesemente un tipo coleottero elettro Avendo le sembianze, diciamo, le chele di una sorta di scarabeo Ma quelle cose gialle mi fanno pensare che sia un pokemon di tipo elettro E niente, questo qua forse è il migliore che abbiamo, perchè poi dobbiamo passare a sto schifo Una zanzara, come se non bastassero quelle dell'estate Game Freak ce ne rifila un'altra, gialla, brutta, schifosa Devo essere onesto, a me fa cagare letteralmente Poi, ripeto, ognuno ha i suoi pareri, però questo qua veramente mi fa schifo Ma signori, a parte il fatto che se potrebbe essere anche questo qua di tipo elettro folletto Io ci esagero un tipo così Perchè mi sa tanto della fattina, però è giallo Quindi magari un elettro folletto potrebbe essere una combinazione strana Ma signori, questo è nulla, vi assicuro È nulla in confronto a quello che state per andare a vedere Sto coso Dio mio, cosa sei? È un cazzo di bunker anti-atomico fatto a Pokémon Sembra una caramella di quelle che ti regala il nonno Oddio, non posso credere che questo sia un Pokémon Non ci posso credere Non ci posso veramente credere È bruttissimo Com'è possibile che sia venuta in mente una cosa del genere? Dio mio, potrebbe essere un coleottero metallo questo Perchè c'ha le sembianze Non ha le sembianze di coleottero, però Riconduce un pochino al coleottero E poi c'ha quella sorta di porta in mezzo Che sembra fatta di metallo Ma ragazzi, è veramente Io non capisco che cosa possa passare Per la testa di sta gente È proprio brutto Ma poi non ha senso In cosa si vuole una cosa del genere? Cioè, ditemelo voi E comunque non è, clamorosamente, non è il peggiore C'è di peggio Perchè poi abbiamo questo nuovo pesce Dio mio Io mi lamentavo di basculine e di Alomomola Ma signori Ma signori, ma cosa ho fatto? Questo è il cancro dei Pokémon Oddio Io non so se sia voluto farlo così Ma Christos è brutto È brutto Ma quanti colori gli ha messo? Ma perché? Ma poi perché è spigoloso Mamma mia Non me ne vogliate, eh Magari a qualcuno piace Ma io lo trovo veramente Potrebbe essere per me Il Pokémon peggiore mai creato Insieme a Barbaracola, ovviamente Santo Dio Io Boh, non so cosa dire Meno male che vi ho lasciato ragazzi Per ultimo Quello un pochino più decente Che sarebbe Questo Pokémon qua Che adesso Vi mostro in questa immagine Come ho fatto con tutti gli altri Che è già qualcosa di più carino Se così si può dire È qualcosa di Accettabile Mi sa un pochino Se devo essere sincero Del leggendario Mi sa un po' del leggendario E niente Questo qua è carino Sembra anche questo qua Un tipo coleottero Incredibilmente Però È bello A me piace È uno dei pochi Che mi piace Insieme a quello Di tipo coleottero Elettro E ripeto Mi sa molto del leggendario Anche considerata L'ambientazione In cui si trova E potrebbe essere Ragazzi Uno di quei Guardiani famosi Di quelle isole Di cui ci avevo parlato Tempo fa E di cui ci aveva parlato Anche Ala Nel trailer Anche perché Ce li ha un po' I caratteri tribali Ecco Il tipo L'abbiamo già detto Potrebbe essere Coleottero E anche qua C'è azzardo Un elettro Perché Obiettivamente Dà l'ambientazione Dai colori Potrebbe tranquillamente Essere Ma potrebbe essere Anche un lotta Perché no E niente signori Questi qua Sono i sette pokemon Che sono stati Rivelati Attenzione Vi faccio notare Un particolare Non si vedono Né allenatori Né barre di esperienza Quindi signori miei Non sono stati Ufficialmente rivelati Infatti nel titolo Troverete un punto Di domanda Perché Signori Io È una cosa mia Io spero Dal profondo Del cuore Che siano fake Perché dopo Quelli che sono stati Rivelati Che mi sono Relativamente Piaciuti Questi Cosi qua A parte l'ultimo Che mi piace Non li posso Soffrire Signori Io vi ricordo Che oggi Per commentare Un po' più Approfonditamente Questi pokemon Ci sarà una live Sul canale di rocket Mi raccomando Passate Perché Così potremo Discuterne un po' Meglio E niente Io spero che Vabbè Non so quanto Possa essere piaciuto Questo video Lasciate un like Per supportarmi Iscrivetevi al canale Commentate Mi raccomando Passate dai social Che trovate in descrizione Mi raccomando Anche dai canali Dei bro Qua sotto In particolare Quello di nuke Perché ci sarà appunto La live E noi ci becchiamo In un prossimo Video E noi ci becchiamo 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 Noi ci becchiamo